Si trasforma in tragedia una bravata di tre giovanissimi barlettani, un sedicenne muore travolto dal treno in corsa, una terribile pagina di cronaca nera che scuote non poco le coscienze a poche ore e dal fatto si cerca di fornire una causa plausibile all'incidente, forse si cercano colpevoli o forse si attribuirà al semplice fatto la colpa di quanto successo, ma quello che al momento rimane che è quella che avrebbe dovuto essere una serata come tante, si trasforma in un appuntamento con la morte per un minore, giovane della barletta bene, che per motivi che con molta probabilità non si conosceranno mai fino in fondo, ha lasciato sui binari del passaggio a livello di via Milano la sua giovane vita. Parenti, amici e barlettani tutti piangono alla morte del sedicenne e si pongono i tanti interrogativi del caso, cominciando dall'ormai attavica problematica della sicurezza in una città che alle soglie del terzo millennio è ancora tagliata dalla rete ferroviaria, arrivando poi alla presa di coscienza di un'ormai incontrollabile incoscienza adolescenziale. Sicuramente infatti alla base di tutto c'è un gesto azzardato dei tre giovani che ieri sera da poco passate alle 21, forse per una bravata, incuranti che le sbarre a livello fossero chiuse e li hanno attraversate costeggiando i binari. La giovane vittima, secondo quanto si è preso, stava camminando all'interno del muretto quando il convoglio è sfrecciato a piena velocità, prendendo di striscio il ragazzo e sbalzandolo via. Al momento di soccorsi pressoché immediati sul posto, oltre ai carabinieri e la polizia municipale, anche un'ambulanza del 118, per il sedicenne non c'era già più nulla da fare. La causa del decesso sarebbe dovuto a profonde lesioni al cranio. Il macchinista non si è accorto di nulla data la velocità dell'accaduto. Sul luogo dell'incidente è intervenuto anche il sindaco Pasquale Cascella insieme agli assessori Antonio Rizzi e Anzurra Pelle. Traffico ovviamente in tilt sulla rete ferroviaria fino alle 23.15. Questa mattina sul posto un nuovo superluogo dei carabinieri che si stanno occupando dei rilievi del caso.